Signore e signori, quest'anno sono lieto di presentarvi direttamente da Brescia, l'uomo che da mesi si cela sotto il nome di Crypto Vita e che oggi metterà a luce la sua faccia. Ciao a tutti ragazzi, finalmente ci vediamo, sono veramente contento di fare questo video, mi presento, io mi chiamo Alessandro e sono la persona che ormai da gennaio sta dietro la pagina di Instagram di Crypto Vita e da poco più di un mese anche qui sul canale di YouTube. Quindi innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che già mi seguono e che mi supportano ogni giorno sia qui su YouTube che sulla mia pagina di Instagram e vi invito a mettere un bel mi piace a questo video, iscrivervi al canale, già che ci siete ormai potete pure prendere la campanellina delle notifiche così siete avvisati praticamente ogni volta che io muovo il mouse sul computer. Vi racconto un attimo chi sono, io sono uno studente di ingegneria informatica e sto per approcciarmi alla laurea magistrale, questo perché in realtà nel momento in cui registro non sono ancora laureato ma probabilmente nel momento in cui vedrete il video sì, quindi avrò un pezzettino di carta in più rispetto ad adesso, quindi buon per me. E sono appassionato al mondo degli investimenti all'incirca dal 2017, stesso anno in cui ho scoperto per la prima volta il king, Bitcoin. Magari un giorno vi racconterò anche in un video a parte qual è la storia che mi ha portato a conoscere Bitcoin perché io penso che sia davvero divertente e simpatica da sapere. Il mio obiettivo con questo canale è quello di portare la mia visione sul mondo, quindi quali sono i progetti che mi piace studiare, come studio i progetti e poi una serie di tutorial che possono essere tutorial di base fino a tutorial un pochino più di nicchia, sempre su temi molto caldi che ci piacciono, quindi rendite passive, DeFi, NFT, gaming, tutte queste cose che sono certo che anche a voi ormai piacciono e sicuramente ne abbiamo già parlato anche su Instagram. Io vi ricordo anzi di seguirmi pure su Instagram, tra l'altro abbiamo da poco superato i 10.000 follower anche lì, quindi veramente sono pieno di gioia e vi ringrazio davvero tutti. Con questo io ho finito il video, quindi davvero se avete qualunque tipo di domanda scrivetemela qua sotto nei commenti che io sono veramente felice di rispondere e vi auguro una buona giornata, tanto non voglio rubarvi troppo tempo, so che siete molto impegnati e dopo una intro così grandiosa che neanche la Marvel vi saluto con un bel ciao!